Bentornati amici investitori, con suito le secondo mensile dei nostri investimenti a 360 gradi. Che cosa vuol dire? Che andiamo a parlare di quattro sezioni principali, le troverete tra l'altro qui sotto nell'indice e nella barra del video. La prima sezione è quella dell'investimento, diciamo più classico, più tradizionale, che è il nostro portafoglio azionario, che tra l'altro è un portafoglio pubblico. Se volete vederlo, vi lascio qui sotto in descrizione i relativi link. Poi avremo una parte per quanto riguarda il crowdfunding, anche lì ne stiamo parlando da diverso tempo ed è una parte molto molto importante da conoscere. Poi quella che secondo me è la parte più importante in assoluto, ovvero il miglioramento personale, cioè investire su noi stessi, sicuramente l'investimento a più alto valore aggiunto che possiamo fare, lo possiamo fare attraverso corsi, attraverso libri, e vi appunto rendo partecipi di quelle che sono le mie iniziative in questo campo. E poi un'ultima sezione invece che è quella del club degli investitori, un altro progetto di cui vi sto parlando da diversi mesi negli ultimi video. È un progetto che sta prendendo sempre più corpo, che molto probabilmente partirà dal prossimo gennaio 2021. Quindi nell'ambito di questo progetto vi faccio un attimino il punto della situazione, anche per descrivervi un po' quelli che sono i vantaggi di questo progetto. Quindi tanta carne al fuoco, sigla e cominciamo! E partiamo con il resoconto del nostro portafoglio pubblico di investimento. Dicembre, stiamo registrando il 30 di dicembre, siamo a quota 1,45% di profitti per quanto riguarda dicembre. Ovviamente potrebbero sembrare pochi, ma a confronto di quello che è successo a novembre con un 12,65%, ovviamente novembre è stato un caso particolare con la notizia del vaccino contro il coronavirus, mentre dicembre è un percentuale più normale, anche perché se considerassimo l'1,5% tutti i mesi, alla fine dell'anno faremo già un più 18% che è un signor rendimento. In questo caso chiudiamo l'anno, il 2020, che nel nostro portafoglio in realtà siamo partiti da aprile, quindi abbiamo fatto un aprile-dicembre quando è nato questo portafoglio, comunque chiudiamo l'anno con un più 23%, quindi comunque un rendimento molto molto importante per questo 2020. Come al solito però non ci sono rendimenti se non ci sono anche dei rischi, quindi bisogna sicuramente tenere presente qual è il grado di rischio anche di questo portafoglio, e su una scala da 1 a 10 il grado di rischio di questo portafoglio è 4, quindi comunque possiamo dire che è medio-basso ed è un ottimo livello di rischio per il rendimento che abbiamo ottenuto. Volevo poi ovviamente ringraziare tutte le 116 persone che in questo momento stanno copiando questo portafoglio, ovviamente questo non è né un invito ad investire né un consiglio a farlo, ma semplicemente se volete vedere il portafoglio vi ricordo che trovate tutti i link qui sotto in descrizione, e vi ricordo ovviamente che gli investimenti vanno fatti in maniera consapevole, ovvero un investimento deve rientrare nella vostra specifica situazione personale, strategia di investimento, livello di rischio, obiettivi di vita. E ritornando proprio al discorso strategia, volevo sottolineare una cosa importantissima, anche questo mese ho notato che sull'onda dell'entusiasmo di novembre dove abbiamo avuto tanto rendimento, tante persone hanno cominciato a copiare, però poi a dicembre dove c'è stato un primo mese, un periodo del mese dove la situazione è andata in negativo, tanti sono usciti e poi magari adesso che invece siamo tornati in positivo ecco che ritornano. Attenzione, questa tipologia di strategia è assolutamente sbagliata qualunque sia l'investimento che stiate facendo, quindi a prescindere da questo portafoglio, se state vestendo in etf, se avete un vostro portafoglio personale, qualunciasi portafoglio o investimento facciate, non fatevi prendere e guidare dalle emozioni sull'onda della volatilità dei mercati, ma continuate a seguire la vostra strategia, non fate ingressi e uscite continuative dai vostri investimenti solo sull'onda dell'emotività, ma seguite un percorso di crescita in questo contesto specifico, questo portafoglio è fatto in logica PAC, quindi ogni mese per mese andiamo a mettere la nostra somma di investimento per un periodo di tempo di 3-5 anni, quindi se cominciate a fare un certo tipo di discorso, portatelo avanti nel tempo e evitate di fare ingressi e uscite, questo vale per qualsiasi investimento stiate facendo. Ma passiamo a vedere cosa sta succedendo all'interno del nostro portafoglio, tutta la strategia, le movimentazioni e tutto quello che facciamo, ovviamente lo discutiamo in una live specifica tutti i mesi, vi lascio qui sopra il link alla live di dicembre, quindi lì troverete appunto tutta la discussione e tutto quello che è accaduto, nello specifico i fatti di rilevanza da discutere sono il crollo che c'è stato su Alibaba che è crollata del 20% e dirà la nostra posizione numero 1 del portafoglio, in questo caso siamo a meno 9 perché poi c'è stato il crollo, abbiamo tra l'altro comprato quando c'è stato il crollo, poi le azioni sono già un po' risalite, quindi comunque abbiamo mediato questa situazione, in questo momento siamo a meno 9 su questa posizione. Gli altri fatti di rilevanza sono stati gli investimenti in Pacific Gas and Electric Corporation e in CK Hutchinson, ma questi li abbiamo discussi come vi ho già anticipato nella live di dicembre che ve l'ho lasciata sempre qui sopra linkata, dove ho fatto anche l'analisi delle due aziende e tra l'altro su Pacific Gas ho fatto un video anche dedicato. In generale vi lascio sempre qui sopra il link alla playlist chiamata le migliori aziende da acquistare, dove appunto vengono inseriti all'interno tutti quei video dove facciamo le analisi di ogni specifica azienda. Ad ogni modo le posizioni che stanno performando meglio in questo momento sono ovviamente Disney e Microtechnology, che hanno avuto un incremento molto importante, sono vicine su un entrambe al 48% insieme a Carnival, e poi in successione tutte le altre. Nella parte invece negativa del portafoglio troviamo sempre Momo, poi è tornata Alibaba, è arrivata Alibaba con il crollo di cui abbiamo parlato, e poi delle altre posizioni che sono appunto quelle in cui stiamo cominciando a costruire la nostra posizione proprio in questo momento, che speriamo poi ci possano dare gli stessi risultati che invece ci hanno dato già le posizioni come Walt Disney e Microtechnology, che appunto all'inizio si trovavano nella stessa posizione in cui si trovano in questo momento Pacific, Beyond Meat e Chica-Patchinson. Per quanto riguarda il crowdfunding invece, io vi ricordo che sul canale trovate appunto, anche sulla home, direttamente la playlist con il crowdfunding e il peer-to-peer lending, dove abbiamo appunto racchiuso tutti i video relativi a questo specifico settore di investimento, e tra l'altro vi segnalo questo video, crowdfunding e peer-to-peer lending, che è un video reso conto di tutte le tipologie di crowdfunding e peer-to-peer lending nelle quali potete investire, quali sono i pro e i contro di ogni tipologia. Trovate poi sotto in descrizione tutti i vari link, sia per Cryptalia, Prestiamoci, We Are Starting, di cui abbiamo già parlato. Normalmente il budget di investimento sulle piattaforme crowdfunding era di 500 euro al mese, in questo momento su dicembre l'ho sospeso, perché appunto sto raccogliendo tutti i capitali per il progetto del club degli investitori, di cui vi parlerò tra un attimo. Passiamo invece adesso alla sezione degli investimenti su noi stessi, quindi allo sviluppo personale, che sicuramente, lo ripito, la parte più importante e a maggiore valore aggiunto di investimenti che possiate fare. Profitto per presentarvi il nuovo sito di Vivere di Dividendi, che è online appunto da dicembre. È una versione iniziale, quindi sicuramente nel 2021 avremo tante possibilità di sviluppo, tante nuove cose arriveranno anche sul sito. E in questo sito avete anche la sezione I nostri partner, nella quale appunto c'è Sven Karlin. L'abbiamo ospitato tante volte sul nostro canale, vi lascio magari qui sopra il link alla playlist con i video che abbiamo realizzato con Sven. È un analista finanziario, una persona che basa i suoi investimenti sull'analisi fondamentale. Ci troviamo molto in sintonia con la sua metodologia di investimento. E tra l'altro Sven gestisce una piattaforma appunto di investimenti, dove fa, dove condivide le sue analisi, le sue ricerche, le analisi fondamentali, non solo sulle singole aziende, ma anche sui vari settori. Quindi su un gruppo di aziende, su tutto il comparto industriale. È una piattaforma molto molto interessante, alla quale appunto io ho la possibilità di accedere. Grazie alla collaborazione con Sven trovate qui appunto il link alla piattaforma. Quindi potete un attimino cercare di capire di che cosa si tratta, se è una cosa che vi può appunto interessare. E vi posso dire che comunque è molto molto interessante. Ci sono delle grandi analisi e sicuramente un aspetto formativo molto molto importante. Passiamo adesso invece ai testi che ho letto in questo mese. Sono stati davvero tanti perché usando gli audiolibri e essendo impegnato questo mese nella ristrutturazione della cantina che sta diventando un ufficio, se mi seguite su Instagram troverete tutte le storie di questo nuovo progetto, dei lavori come stanno procedendo. Ho avuto tanto tempo per ascoltare nuovi libri e quindi voglio condividere con voi quelli che mi sono più piaciuti. L'Ordine del Tempo è stato uno dei libri più interessanti che ho letto e veramente ve lo consiglio perché vi cambia sicuramente l'idea che avete sul concetto del tempo. Non vi voglio spoilerare nulla, ma è stato un grandissimo libro. Poi ci sono state delle letture di narrativa partendo da Questione di Costanza, un libro molto molto simpatico, i quattro libri relativi all'Amica Geniale, una bellissima storia, molto interessante anche questa, per poi finire con un classico di tutti i tempi, Piccole Donne, che ho letto perché se ne parla tantissimo nei quattro libri dell'Amica Geniale e quindi poi mi è venuta la curiosità di leggerlo. Mentre vi voglio segnalare 000, libro di Roberto Saviano, che è molto interessante, vi spiega sicuramente tutto l'aspetto legato ai traffici della cocaina, ma ci sono molti riferimenti anche al legame tra finanza e mondo criminale, comunque traffici della cocaina. E' uno degli aspetti molto interessanti che mi hanno fatto tanto riflettere, quindi sicuramente è un libro che voglio segnalarvi. In ultima analisi, gli amici di Finanza Futura mi hanno mandato Mercato Azionario, un libro che non ho ancora letto, ma sicuramente lo farò nel mese di gennaio. Passiamo adesso invece al progetto del Crab degli Investitori. Come vi anticipavo nel video scorso, sto cominciando, che ho cominciato, anzi ho concluso di chiudere tutte le posizioni che ci erano sul portafoglio, che inizialmente condividivo con voi prima di passare al portafoglio completamente pubblico, e come vi anticipavo ho già chiuso tante posizioni, come per esempio Crones, BMW, BAC Speaker, Brembo e così via, Albe Marle, e ho finito di chiudere e ho venduto anche la posizione su East West Bank. Questo perché tutti questi capitali convoglieranno appunto nel progetto del Crab degli Investitori, che come vi anticipavo, e vi lascio qui sopra il video esplicativo con tutti i dettagli, diciamo in generale del progetto, ma nello specifico appunto l'idea è quella di creare una holding di investimento con tutti voi. Quindi tutti i miei investimenti passeranno tramite questa holding di investimento e tutti voi potete partecipare tramite appunto il crowdfunding. Ovviamente come tutte le cose ci sono vantaggi e svantaggi, vi rimando al video lasciato qui sopra linkato, dove ne parliamo nello specifico. In generale ovviamente avremo tanti vantaggi legati alla diversificazione, legati all'accesso di investimenti che singolarmente non potremmo fare, dei vantaggi fiscali notevolissimi, perché abbiamo una detrazione al 50%, per esempio facendo un investimento da 10.000 euro, il 50%, quindi 5.000 euro, ce li portiamo come detrazione IRPEF, quindi ci ritornano già dopo un anno sul nostro investimento. Quindi tantissimi vantaggi, ovviamente ci sono anche degli svantaggi, in questo caso lo svantaggio principale sarà la poca liquidabilità di questo tipologia di investimento. Ma più che tutto ciò, qual è il viro valore aggiunto di creare una holding di investimento, che tra l'altro ce ne sono tante in giro? Il viro valore aggiunto è sicuramente quello della competenza e della professionalità, perché non è un progetto che voglio mandare avanti da solo, è un progetto che sto cercando di sviluppare con delle idee professionisti, delle aziende che sono specifiche, competenti e professionali su uno specifico settore, quindi tutte le aree di investimento del portafoglio, quindi l'ambito magari delle start-up, l'ambito del finanziamento del debito alle imprese, e l'ambito degli investimenti in azioni, avranno un referente specifico professionale dedicato a quello specifico ambito, quindi un'unione di professionalità che ovviamente sarebbe impossibile da ottenere con un singolo individuo. Comunque sicuramente vi terrò aggiornati sullo sviluppo di questo progetto, vi lascio qui sotto il link se volete registrarvi con un modulino molto semplice per essere poi nella mailing list e avere notizie, aggiornamenti su questo specifico progetto. Fatemi sapere quindi tutti quelli che sono i vostri commenti qui sotto, come stanno andando i vostri investimenti e come è andato questo 2020 per voi. Non dimenticate di lasciare un bel mi piace per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella se non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video, io vi saluto e buon dividendo a tutti!